Musica Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi, buon inizio di settimana a tutti Oggi siamo già martedì ragazzi, quindi la settimana è già iniziata Però io comunque vi voglio augurare un buon inizio di settimana Per chi state cominciando da oggi la vostra settimana O lavorativa o scolastica o quello che sia Quindi anche con lo studio perché c'è tante persone che studiano Quindi buona settimana per tutto quello che farete ragazzi Ben ritornati qui sul canale Siamo con un altro episodio di Ship Gravajar Simulator Dove ci avevamo lasciato in uno scorso episodio che avevamo fatto l'upgrade del negozio Quindi potevamo comprare più attrezzatura Un po' di attrezzatura l'abbiamo aggiornata Abbiamo il martello di livello 2 Quindi passiamo dal sfrandumare le navi come se non ci fossero un domani Quindi tante cose fatte anche nello scorso episodio E torna anche questa bellissima serie Questo bellissimo gioco ragazzi che vi consiglio Perché è un giocone incredibile Quindi ragazzi voglio sempre dire Grazie per il supportazzo che mi state dando Sotto a ogni video ragazzi Like ma anche sul sito Sia su Discord ragazzi Vi stanno piacendo le rubriche Gli articoli ragazzi Grazie perché io cerco Tutto quello che faccio Lo faccio sia per me ma anche per voi Per darvi più informazioni E per darvi una mano Il più possibile Andando sto facendo qualcosa il gatto Minu cosa stia facendo Minu Detto questo Vi faccio partecipare anche di questa cosa qua È il bello di queste cose Di questi video qua Detto questo ragazzi Ma non ci incischiamo troppo E andiamo a fare gioca E carichiamo la nostra partitazza Ragazzi Partitazza Partitutto anche nei vari serie Che stiamo portando Anche se voi ci giocate Ragazzi Io lo dico sempre Chi viene sul mio canale E mi segue Noi Cioè io porto la serie Ma lo sto portando insieme a voi Quindi anche voi siete partecipi Di quello che andrò a fare Quindi se avete consigli Ci avete già giocato O avete visto anche altri stream Ragazzi Non esitate a spolliciare sotto Soprattutto è Taccatacatac E scrivere Quindi fate andare via le manine Scrivete E consigliatemi anche queste cose Perché alcuni voi Mi avete anche consigliato Di comprare delle attrezzature Ma vediamo ragazzi Ma ci mancano i fondi principali Ci mancano I soldi Quindi Andiamo a vedere Di fare qualche materiale Di fondere Perché avevamo preso anche Delle commesse Di nuove cose Per vendere materiali Quindi dovremmo fondere Qualche materiale Andremo a vedere In questo episodio Piazzo ragazzi Quindi rimanete sintonizzati Incollati sullo schermo Sono Castle canina Tutti qua Eccoci qua ragazzi Ci avevamo lasciato Che Sì Avevamo quella nave là Che l'avevamo ancora Ma l'avevamo tolta Quindi Passato questo giorno La nave Andrà via Allora Noi dovevamo Noi volevamo fare L'ho visto che Avevamo fatto questa cosa qua Avevamo fatto Comunque L'epis Avevamo fatto L'upgrade del negozio Quindi vediamo Possiamo comprare Determinate Determinate Attrezzi Ma ovviamente ragazzi Ci mancano i soldi Ok ragazzi Ho spostato la webcam Perché non Voi non vedavate I soldi Il livello Tutto quando Allora Noi avevamo preso Anche la commessa Di vendere l'acciaio Noi l'acciaio Già lo possediamo Ragazzi Lo possediamo Quindi Vediamo se lo possediamo Nell'auto L'acciaio Mi sa che lo possedevamo Qualche parte Mi sa Ah no Ce l'avevamo Già noi Però Noi con l'acciaio Volevamo fare altre cose Perché noi vogliamo Comprare questo Ragazzi Perché Adesso il nostro scopo Quindi Adesso i nuovi episodi Se ci riusciamo Dobbiamo comprare E fare questa Baracca Che ci permette Di assumere Di dipendenti Quindi potremmo Assumere anche Di dipendenti E far lavorare Loro al posto nostro E quindi Incassare soldi E incassare materiali Però ci serve 6 di chisa E 4 di carosene Quindi Il carosene Come si faceva Il carosene Il carosene Si faceva Con olio E olio Ma noi Non abbiamo l'olio Quindi In teoria Dovremmo prendere Perché mi sa che la ghisa Ce l'abbiamo Mi sa che 6 di ghisa Serviva per fare Per fare questa baracca Vediamo un po' La ghisa Mi sa che E vabbè la ghisa ragazzi Ce ne abbiamo Abizze Quindi Dobbiamo prendere l'olio Per prendere l'olio Ragazzi Vediamo un po' Questa nave Se Sono aspetta Aspettate Ma noi i soldi Non ce l'abbiamo Sono scusa Se ci vendiamo L'acciaio A quello là Facciamo una cosa Andiamoci a vendere L'acciaio A questa commessa Che abbiamo preso Quest'ordine Guardando qui In questo villaggio Nessuno fa un cazzo Cioè Quello è brutto Salve Un uomo Ma lei scusi Ma cosa fa Che c'ha queste galline Ma che sono le mie Ma che cosa fa Ma mi dica Cosa fa lei nella vita Ok Ci da 432 dollari E ci alza Il 50% Del livello Quindi una cosa Molto interessante Quindi fornisci L'ordine Ok Quindi abbiamo In tascaio solo Abbiamo 1235 Io ragazzi Mi andrei a comprare Forse Forse già Di voi Ma avete capito Cosa andremo a comprare Il mocio Quello che possiamo Assorbire anche Le pozze Le chiazze Di Ma io mi sto a perdere Le chiazze Di Come si chiama C'è dell'olio E noi possiamo raccogli Più olio Perché dobbiamo fare Carosene Ragazzi Quindi abbiamo anche Siamo anche passati Di livello Quindi poi andiamo a vedere Salve Quanto costa 350 E noi ragazzi Andiamo ad acquistare Ovviamente Ok Adesso Andiamo Qua Perché ci serve Un altro barile Per fare Il carosene Ragazzi Così Andiamo a fare Subito la baracca E in questo episodio Ragazzi Costruiamo La baracca Per assumere i dipendenti Quindi cominciamo a prendere Anche qualcuno Sotto di noi In questa Che abbiamo aperto Questa azienda Di recupero materiali Nelle carcasse Delle navi Signori Quindi è tanta 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 roba Tanta roba Questa mi sa che l'avevamo Non so se Era sì ma penso sì È stessa nave Oh E dai salì E dai non mi sale Però lui Salve Allora Le chiazze mi sa che stavano Se non sbaglio Stavano Eccole qua Quindi Come le prendo io Gli attrezzi Eccolo qua Grandissimo Vai 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 Prendi tutto Olio 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 Ok quindi Ok Ah vedete Ci fa la cosa Fico 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 Vai Continua Continua Basta Ah no Aspetta Aspetta Ci sta ancora olio Scusa ragazzi Che basta Le banane Fintus Scusi Vai cose Cose Ok Eh un bel po' d'olio Ci ha fatto però Eeeh Quanto olio Ci ha fatto Ragazzi Eh un bel po' d'olio Mi sa che tutto Non lo possiamo Anche portare Oh ragazzi Ho fatto un bel po' d'olio Ok Andiamo a fare Ah boh Eh scusami Ah no Stavolta siamo usciti Della parte giusta Ok raga Andiamo a fare questo Andiamo a fondere questo Questo olio Per fare il carosene E poi andiamo a costruire Tanto la ghisa ce l'abbiamo Quindi Penso che non dobbiamo Eeeh Però mi serve un po' più spazio Perché adesso devo prendere la ghisa Quindi vediamo se c'è spazio Nel bagagliato dell'auto Nel bagagliato è pure pieno Quindi Ah boh facciamo una cosa Nel frattempo Qua è Qua scusa È pieno Piombo Brottichi Facciamo una cosa Possiamo il rame Tanto a noi non ci serve il rame Per il momento E prendiamo la ghisa Però la ghisa Mi servirebbe anche Ma alluminio Non ci avevamo qualcosa di alluminio noi Perché se posso Alluminio Mi prendo un'altra 5 di ghisa Che ci servirà Ragazzi Mo' ci serve Ci serve Dobbiamo fare sta baracca E oggi è questo Allora Quindi mettiamo qua E mettiamo qua E facciamo il carosene Quindi deve stare a 500 Vai E facciamo sto carosene Ok Quindi abbiamo il carosene Che ci serve Quindi non abbiamo 4 In teoria Ok Quindi mettiamo qua Ce ne abbiamo 4 E quindi abbiamo tutti i materiali Adesso A disposizione Fammi vedere Ragazzi Abbiamo soldi E quindi Andiamo a fare Anche la nostra baracca Quindi Praticamente Andiamo a mettere Anche dei dipendenti Quindi Oh Perfetto Allora Ci sono lavoratori In tutto il villaggio E ognuno di loro È esperto Nella raccolta Di vari materiali Naturalmente Non Non lavorano gratis Bisogna pagarli ogni giorno I lavoratori Deposino ogni giorno I materiali raccolti In una cassa Vicino Alle baracche I tuoi lavoratori Possono essere migliorati Tramite l'albero Di abilità Poi anche ingrandire Le baracche Per impiegare Più lavoratori Concludi Ok Allora Pagamenti al giorno Possiamo assumere Massimo di 3 operai Vabbè raga Ma per il momento Dico che 3 operai Tanto oggi Sicuramente Andremo a prendere 1 o 2 Però diciamo Che già 3 operai Andrebbe bene Comunque Va bene Quindi Dove sta la cassa Quindi loro Loro possono tutto qua Però la cassa E Piange Insomma Quindi Io allora Se farei Siccome Non abbiamo più Un soldo Neanche per piangere Io mi andrei Arrivendo un po' di roba Allora L'olio Quando me lo vendi L'olio 50 Il piombo Quando me lo vendi 150 Dai Vendiamoci tutti i materiali Ragazzi Non fa niente Tanto La roba più Più cara Tipo Chimici Oppure Quello che abbiamo Tipo alluminio Ci abbiamo tutto Entro la macchina Quindi La ghisa Ce la possiamo vendere Tanto per il momento Non ci serve A me ci facciamo Una bezza di Di 750 euro E almeno possiamo Vedere un po' qualcosa Ok Come faccio per assumere Un dipendente Quindi Entra Entra E Upgrade La baracca Beh Per fare baracca 2 Ci servirà Accioio temperato Lega di piombo Lega di ghisa Vabbè Poi questo Poi più il landre Ma fare anche altre cose Quindi Io Eccolo qua Salve Cosa fa lei Allora Lei mi costa 42 euro Al giorno Quindi Tazzo Tazzo Vabbè Come un lavoratore Comunque Sui 40-50 euro Ci sta Dai Lei però È bottino Quindi mi fa Olio E accioio arrugginito Interessante Però aspetta Bob si chiama Il nostro operaio Bob Il nostro operaio Bob E Invece scusa Non ci sono anche altri lavoratori Andiamo un po' spippolare Nelle Nelle cose Scusi ma lei vuole lavorare E non vuole fare un cazzo Tutta la vita in ciabatte Mi scusi Che cose queste cose Ah Perché noi possiamo anche Depredare le casse Andiamo un po' Che ci sta qua Nel Siamo Il lup è nel mondo Uno c'è Nel Sempre Non Non Vettura Non Non Dai Il tesoro Un assicuro Non è Se c'è ancora Il lup è Nel Lup è Nel Che ci sta qua Un piombo Alcolici Scheggi di argento E alcolici Che ci possiamo Rivendere ragazzi Quindi Bello spippolare Un buon giro qua Che troviamo Sime cose interessanti Ma scusi Ma non c'è nessuno Che vuole lavorare Ma scusi Ma abbiamo solo lui Come Come lavoratori In tutto il villaggio Ma no Scusi Ehi michael jackson No niente Ah Eccoti qua Salve Come si chiami John Lei mi fa Ciaio inossidabile E alluminio Però ci costa 84 euro Ma lui già È un lavoro superiore È un lavoratore Di tier terzo Di terzo livello Signori Quindi È un È già qualcosa In più Però 84 quello Più 50 quello Sono già quasi Due sce Ci costa Tanti soldi Al giorno Però qua ci fa Alluminio E acciaio Inossidabile Però aspetta A noi Adesso La cosa più importante Cosa ci serve A noi Stiamo sussiando A vedere un attimo Questa novità Qualche operaio Lo andiamo a assumere In questo episodio Ma Vorrei vedere una cosa Perché ragazzi Noi dobbiamo vedere Un attimo Che cosa vogliamo fare Ma noi Scusate Ma io qua Scusa Andiamo a vedere un attimo Il computer Io qua posso solo fare queste cose qua Cioè non posso prendere Altre cose Posso prendere solo le navi Ma io la nostra baracca Non lo posso Quindi noi Il nostro scopo Prende E aggiornare Il negozio Ma questo io non lo posso aggiornare Fammi vedere ragazzi Se si può aggiornare La fornace Ma penso che si poteva fare In qualche modo Mi sa che si poteva Aggiornare di livello Non lo so se si può aggiornare Vediamo un attimo Non si può aggiornare Di livello Di livello Questa cosa qua Mi ricordo che si poteva fare Ma Non mi ricordo cosa Come Soprattutto Allora Quello mettiamo qua Gli alcolici Mo ci li vendiamo Il piombo Ce l'abbiamo Che vedi Il piombo Gisa Materiali più tipo il cromo Vedi Abbiamo tutti Dentro le cose Quindi Mo ci andiamo a vendere Gli alcolici Che non mi serve Vai Allora Ma l'abbiamo venduti Quindi il nostro scopo Praticamente È migliorare La baracca E E soprattutto Il negozio Il negozio Per farlo Successivo Ci serve Acciaio non legato Ottone E acciaio colato Quindi Acciaio colato Per fare l'acciaio colato Andiamo a vedere un attimo Cosa dobbiamo fare Allora questo fa L'ottone Ci serve Alluminio E rame Che ce l'abbiamo Per fare l'acciaio temperato Ci vuole acciaio E acciaio Che abbiamo Per fare l'acciaio E lega di piombo Ci serve rame E piombo Vabbè questo si sapeva Acciaio colato Serve ghisa E acciaio Vedi Richiede livello 2 Però di fornace Eh vedi che Va Quindi va Va migliorato La fornace E da dove si va Migliorare la fornace Io non me lo ricordo Cioè non c'è una cosa per Scusami Vedi che va Aggiornato La Però non mi ricordo Dove va aggiornato Proviamo a vedere Forse su abilità Potrebbe su abilità Progresso Noi siamo qui Non lo so Se forse va qua Ragazzi Vabbè l'abilità Noi mo abbiamo Due punti di abilità Io raga direi Di Di dare Uno slot in più Eh Non so Però slot in più Questo non me lo fa Utilità Gestione Fammi vedere un attimo Mercato Qua possiamo Decidere i pezzi Del mercato Qua possiamo Alzare le abilità Dei nostri lavoratori Vabbè ma questo L'avevamo visto Vedi ma De più Un paio dei prezzi Lavoratori Paga meno Meno Andiamo a pagare Eh questo Già si potrebbe fare Andiamo a pagare un po' di meno Si potrebbe fare Poi i prezzi delle navi Costano di meno Prezzi sul mercato Allora Io direi di andare a investire Uno su qui E uno su questo Ragazzi Perché comunque Serve Quindi abbiamo meno Paghiamo meno le navi E paghiamo meno i nostri lavoratori Perché ora dobbiamo andare a assumere Però io non capisco Dove si va ad aggiornare Ehm Dove si va ad aggiornare Soprattutto La fornace Ehm E' quello che non capisco Non so se va forse in base al livello Ragazzi Perché Non lo so Vabbè la fornace non si aggiora Vabbè Allora facciamo una cosa Assumiamo il nostro Bob Bob Che devi fare Dai Esci Dai Minu Dai esci Allora andiamo a assumere Il nostro Bob Quindi Assumi operaio Bob Sei assunto Ok Bob Sei assunto Mi raccomando Bob Non mi fare cazzate Che è la prima cazzata Ti licenzio Bob Che ci sono tanti altri lavoratori Quindi il nostro primo lavoratore Bob L'abbiamo preso Grande Bob Quindi Ehm Facciamo una cosa Andiamoci a dormire Quindi andiamo avanti il giorno A meno anche la nave Se ne Se ne andrà E io me sono curioso di vedere Ragazzi In questo episodio Quando ci costano le navi Visto che adesso Comunque Abbiamo Abbiamo anche il 10% di meno Quindi poi Andiamo a vedere un attimo Ma andiamo a prendere Oh una cosa 225 Dipende dai materiali Che c'ha sopra Andiamo a prenderci Andiamo comunque Cominciamo a ridepredare Un po' Un po' le navi Signora ragazzi Dobbiamo vendere materiali Fonderli Dobbiamo alzare il nostro livello Quindi c'è tanta roba da fare Salvataggio automatico Prendici dei nuovi ordini Delle commesse Diamo un po' cosa ci Ci fa fare Poi ragazzi Andiamo a ordinare Una nuova nave In questo episodio Ragazzi Oggi questo L'abbiamo assunto L'abbiamo fatto la baracca Allora Alluminio Olio No Io ti venderei più l'olio Per dire la verità Perché l'alluminio Ci serve un po' Perché l'alluminio è critico Ragazzi Ci serve un po' Per Per fondere materiali Un po' delicati Quindi io dovrei Di andare Accettare una commessa Di andare a accettare una commessa di olio Quindi quando avremo 12 barili d'olio Li andiamo a vendere A sto signore Quindi a me ci facciamo Qualche soldo in più Io mi perdo sempre Su sto cosa Però io voglio capire Come aggiornare Questo ragazzi Che non ho ben capito Come si aggiorni Ah upgrade l'officina Eccolo qua Eccolo qua Quindi per fare l'officina Livello 2 Ci serve 6 di carosene 6 di acciaio colato E 4 di ottone Quindi Per fare l'ottone L'ottone ci serve Alluminio E rame che abbiamo Il carosene Lo facciamo con Con L'olio E acciaio colato Lo facciamo con ghisa E acciaio Quindi Diciamo Quindi il prossimo step Sarà questo Di fare l'upgrade Della nostra fornace Perché è quello che noi ci lavoriamo E ci fa guadagnare soldi Ragazzi No Non possiamo fare un cazzo Cioè Adesso andiamo a fare una cosa Andiamo a prenderci Un'altra nave Io direi di prenderci Proprio questa qui Che c'ha un po' tutto C'ha acciaio Alluminio Benzina Olio C'ha un po' di tutto Quindi ci costa anche di meno Quindi andiamo a prenotare La nostra Ehm Ok Andiamo a prenotare La nostra nave La nave arriverà Arriverà alle 8 Vabbè ormai arriverà Il giorno dopo Quindi il nostro Bob Bob abbiamo ordinato la nave Ti voglio concentrato Ai massimi livelli Amino Hai rotto il cazzo Che vuoi Dai esci Dai Esci Dai Che ti fa Esci dai Che devi fare Dai Amino Esci Quindi Bob Ti voglio concentrato Bravo Scalta i muscoli Scaldali E niente Perché dopo la ti voglio Poi non so come funzionerebbe Ah scusa Aspetta Facciamo una cosa La baracca Quindi un attimo Io abbiamo assunto Bob Rilascia Quindi possiamo No Porca miseria No Bob Mi scusi Ho sbagliato Io ho stracciato il contratto Mi scusi Ah no Bob Mi scusi Gli ho Gli ho stracciato il contratto Non volevo Quindi Perdonatemi Quindi ok Quindi abbiamo Bob Che lui ci raccoglierà Olio E soprattutto acciaio Arrugginito Ci costa 40 dollari Al giorno Ragazzi Per il momento Questo è Quindi Abbiamo assunto Un nostro operaio Abbiamo ricomprato Una nuova nave Abbiamo un po' capito Un po' come aggiornare Le cose Ragazzi Abbiamo venduto Un po' di commesse Abbiamo venduto Un po' di materiali Io direi Un'altra cosa Di fare Noi ci abbiamo L'inventario pulito Perché mo' ci servirà Poi per le prossime Per le prossime cose Io direi Che qua Andiamo a controllare Anche un po' di materiali Che abbiamo Tipo rame Ce l'abbiamo Alluminio Ce l'abbiamo Un bel po' Alluminio Ce l'abbiamo un bel po' Prodotti chimici Questo poi Andiamo a vedere Il rame Comunque ce ne abbiamo Abbiamo scheggi di D'argento Che poi vediamo Cosa farci Perché secondo me Con le scheggi d'argento Non è che ci possiamo Far qualcosa Perché Se noi andiamo a vedere La fornace Con le scheggi di Non è che ci possiamo Far qualcosa Secondo me Ce le possiamo rivendere E fare soldi Perché scheggi d'argento L'argento Ah scusi Ma quanto sta a proposito Prima di salutarci Quanto stanno le scheggi Quando sta le scheggi D'argento Stanno a 114 Dollari Al pezzo Quindi Quello che costa di più È Acciaio resistente Agli acidi Costa di più Praticamente Quello che costa di meno È un po' Il titanio Prodotti chimici Sta in discesa Vabbè Vediamo un po' Se il mercato Risale Di queste cose Ragazzi Vabbè Allora Ci chiamo alla porta Perché Sennò qua Non si fa i cazzi No È loro Vabbè Ragazzi Noi facciamo Salvatina Come sempre Perché Sempre E noi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Di ship Graveglia Simulator Che stiamo andando avanti Abbiamo comprato la baracca Per gli operai Abbiamo assunto Un operaio Abbiamo venduto Materiali Abbiamo Fuso Altri materiali Per costruire altri Abbiamo comprato Nuova attrezzatura Il mocio Che raccoglie L'olio Quindi potremmo Fare più olio Quindi più carosene E più venderci l'olio Abbiamo anche una commessa Da 12 barili d'olio Che ci danno soldi E più ci fa alzare il livello Ragazzi Quindi Tante cose Ragazzi Grazie ancora E' stato con me Spero che questo video Sia stato di vostro credimento E spero che Vi siete fatti qualche risata In mia compagnia Grazie di essere stati con me In mia compagnia Ragazzi Spolliciate in su Condividete questo video Iscrivete al canale Attivate la campanina Ragazzi Per non perdervi mai nulla E noi ci becchiamo Nei prossimi video E like Che iniziano già da domani Le live ragazzi Quindi Non mancate Rimate sintonizzati In descrizione Tutti i link ragazzi Sono gratuiti Quindi Non vi costa nulla Basta solo Passarci e darci un'occhiata Anche per supportare Il pazzo Detto questo ragazzi Ma che abba Alla prossima Ciao a tutti ragazzi